Ma, veramente volete che gli altri non vedano le vostre foto? Semplice, non le pubblicate! Voglio dire, la privacy sta a Facebook, come Brunetta sta alla palla canesco! C'è la tipica ragazza che mette le foto di lei tutta nuda in tutte le posizioni possibili, che se commette in maniera un po' spinta, si offende pure. Infatti l'armon delle foto si intitola Maialaki! Che poi fanno queste foto anche nei momenti meno opportuni. Finisco in fila con posta, prendendo il detersivo, fiori al cimitero.